Mai così tanti precari nelle scuole della provincia di Ravenna. A lanciare l'allarme a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico è Marcella D'Angelo, segretaria generale della FLCCGL, che parla di 700 supplenti che stanno prendendo servizio in questi giorni negli istituti di ogni ordine e grado. Lo scorso anno i precari erano arrivati a quota 500. Anche tra il personale ATA ci sono problemi. Mancano infatti 8 direttori dei servizi generali e amministrativi e tra assistenti amministrativi, collaboratori scolastici e tecnici saranno assegnati 201 posti a supplenza. Situazione migliore invece è quella dei presidi. A fronte delle tante reggenze che hanno contraddistinto gli anni passati, quest'anno solo un dirigente scolastico dovrà occuparsi di più di un istituto.